E altro ospite del giorno, la dottoressa Maria Solorrico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, dopo la rubrica Parole al vento, la rubrica Psiche. E stamane parliamo di un argomento di attualità, di triste attualità. Ed è la violenza sui minori negli asili, soprattutto nelle scuole. Sì, purtroppo è un argomento molto, molto attuale. In realtà io non sono convinta che sia qualcosa di recente. Secondo me è qualcosa che è sempre avvenuto. Oggi lo percepiamo di più. Esatto, oggi se ne riesce a parlare di più perché sono aumentati i casi di denuncia. Come la violenza sulle donne. È vero. Che prima non ci fosse, anzi. Anche prima era presente, oggi è tristemente più nota. Però a mio avviso è un problema che è presente da tantissimo tempo, da moltissimi anni. E credo che adesso che si è trovato il coraggio di parlarne, sia arrivato il momento di ritrovare anche una soluzione. Esatto. Una soluzione potrebbe essere... Le soluzioni, in primo luogo, bisogna capire dove e quando avviene. Si è tanto parlato di mettere le telecamere all'interno di questi luoghi. A mio avviso questa potrebbe essere una scelta saggia. C'è chi dice che è una violazione della privacy. Ma una volta che gli insegnanti sono a conoscenza del fatto che ci sono delle telecamere all'interno di questi luoghi, perché una violazione della privacy? Questo senza considerare che non le stiamo mettendo all'interno delle abitazioni. Tu sei sul posto di lavoro ed è giusto, soprattutto se lavori con minori, che ci sia un controllo. Esatto. Ecco, dall'altra parte c'è anche da dire che molti di questi casi avvengono a causa del fenomeno del burnout, che purtroppo colpisce. È vero, è vero. Quello dell'insegnante, soprattutto in una scuola materna o in una scuola elementare, è un mestiere, a mio avviso, estremamente usurante. Basti pensare che in alcuni casi i genitori non ce la fanno più con uno o due bambini durante il giorno. Pensiamo agli insegnanti che in alcuni casi ne devono seguire 20 per un'intera mattinata, che non è assolutamente poco. È normale che in alcune occasioni si perda la pazienza. Certo. E questo dovrebbe essere un fattore monitorato. In molte scuole d'Europa è previsto uno sportello psicologico, che può essere una fonte di aiuto sia per gli insegnanti che per i bambini, per i ragazzi. Cosa che in Italia purtroppo raramente è presente. Dicevamo prima che in alcuni casi viene presentato come progetto PON, però se ha una durata limitata nel tempo è quasi inutile. Perché parliamo di Messi. Sì, e indipendentemente dallo sportello attivo all'interno delle scuole, io credo che gli insegnanti, soprattutto quelli che lavorano con le classi più piccole, con i bambini più piccoli, dovrebbero essere sottoposti a delle visite. Questo può essere un aiuto sia per loro, magari per essere aiutati a trovare nuove strategie per affrontare il rapporto con i minori, sia per i bambini stessi, perché un professionista può rendersi conto del fatto che magari un insegnante in quel determinato periodo della sua vita non è pronto a subire lo stress del lavoro con i bambini. Indubbiamente. Il burnout purtroppo è un procedimento, diciamo, logorante che avviene nel tempo. In alcuni casi non ci si rende neanche conto di quando avviene il punto di rottura. Vai avanti giorno per giorno, sei sempre più stanco, arriva un momento in cui esplodi. Ecco. E quell'esplosione può coinvolgere sia la persona stessa che magari inizia ad essere meno presente sul lavoro, ad avere problematiche a casa, all'interno dell'ambiente lavorativo, sia purtroppo sfociare in comportamenti aggressivi nei confronti dei bambini che ovviamente non c'entrano nulla. E sono poi i comportamenti che purtroppo vanno ad incidere su una fascia di età che difficilmente riesce poi a somatizzare, a comprendere. Difficilmente riesce a somatizzare, difficilmente riesce a proteggersi o anche a raccontare a casa quello che è successo. È facile prendere in giro un bambino, è facile fargli credere che è lui ad aver sbagliato e quindi magari si vergognerà anche di andare a casa e raccontare alla mamma o al papà la maestra mi ha dato uno schiaffo. Ecco. Eh, però prima succedeva. Che cos'era? Ha sbagliato. Cioè, siamo noi cresciuti male o invece forse è oggi che si sta troppo estremizzando? La violenza non dovrebbe mai essere una risposta, soprattutto all'interno di un ambiente scolastico che deve proteggere i minori. Probabilmente oggi forse si esagera sotto questi aspetti. Nel senso che i genitori in alcuni casi arrivano ad essere troppo protettivi e andare a lavandarsi con un insegnante anche per una nota, che è il giusto, la giusta punizione, lo strumento giusto per punire chi ha una condotta errata all'interno di una scuola, è scorretto. I genitori dovrebbero lasciare che gli insegnanti facciano il loro lavoro. Forse anche questo contribuisce al burnout. Ecco, quindi questa pressione che viene soprattutto dall'esterno. Al di là di questo, che cosa si viene a creare nel momento in cui magari un adulto diventa troppo aggressivo o dimostra aggressività verso un bambino? È il risultato, a mio avviso, della troppa pressione, come dicevamo prima. È elogorante magari non essere ascoltati, perché magari catturare l'attenzione dei bimbi, soprattutto per cinque ore di fila, è difficile. Quindi è difficile trovare di volta in volta il metodo giusto per affrontare le situazioni. Io con questo ovviamente non voglio giustificare nessun tipo di violenza. Certo, no, no, no. Assolutamente no. Però posso comprendere che alla fine sia difficile tollerare una tale pressione in maniera continua. Proprio per questo l'aiuto di un professionista con l'insegnante, a mio avviso, potrebbe essere efficace. Per aiutarle a trovare strategie per affrontare il problema e soprattutto per somatizzarlo. Magari rendersi conto del fatto che ci sarebbe bisogno di un periodo di ferie, intanto in tanto, per rilassarsi. Un periodo di stacco dalla quotidianità. Io credo che anche la nostra società ormai sta, diciamo, aiutando tutti a diventare iperattivi. Aiuta davvero, o meglio, stimola l'iperattività. E quindi questo continuo stimolare poi fa partire i cinque minuti a qualcuno. Probabilmente l'organizzazione della giornata stessa dei bambini li stimola, come dicevi anche tu, a non essere mai rilassati. Il bambino la mattina va a scuola, poi ha il doposcuola, poi lo sport, poi il corso di inglese. Non ha mai un momento per imparare a gestire la calma, la tranquillità. Perché no? La noia. Forse è anche per questo che diventa sempre più difficile per un insegnante relazionarsi con una classe. Ecco, hai detto una cosa bellissima. La noia. Della noia noi ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno, certo. Imparare a gestire un po' di calma un momento con noi stessi è fondamentale. Ed è fondamentale che si impari da piccoli, altrimenti da grandi non si riuscirà a fare. E psicologicamente che cosa crea la noia in noi? Ma dipende da persona a persona. Personalmente, scusate il gioco di parole, mi piace annoiarmi di tanto in tanto. Anzi, quando per un motivo o per un altro, per due o tre giorni, non riesco a trovare un momento per me stessa, diventa pesante. Ecco. C'è chi invece la noia non riesce proprio a gestirla, ha il continuo bisogno di fare qualcosa, di avere un impegno. Non riesce a calmarsi e a stare da solo con se stesso. Forse si ha paura in alcuni casi di trovarsi a stare da soli con se stessi e a riflettere. Questo però dovrebbe essere presente soprattutto nei bambini, che dovrebbero imparare a calmarsi, ad autoregolarsi, a gestirsi, anche quando non c'è molto da fare. Anche l'iperattività può essere una forma depressiva o è una leggenda metropolitana? No, no, non è una leggenda metropolitana. Certo, poi ci sono tutta una serie di crismi da considerare, però sì, perché no? Un modo diverso di sfociare per la depressione. Non tutti si chiudono in casa e non vogliono vedere nessuno. Altri reagiscono in maniera diversa. No, infatti tu ci puoi togliere qualche dubbio perché la psicologia è costellata da tanti luoghi comuni, no? Per alcuni, voglio dire, il depresso è quello che magari sta chiuso in casa, in pigiama, dalla mattina alla sera, sta in una stanza buia e, voglio dire, se ne sta lì. Il depresso può essere l'amico che ride e fa il buffone, come può essere la persona che non esce di casa. Ecco, quindi è importante tenerli considerazione. In alcuni casi la depressione è nascosta molto molto bene. E quindi? Basti pensare che in alcuni casi le persone arrivano al suicidio senza che nessuno, anche in famiglia, si sia reso conto che qualcosa non andava. Eh sì, abbiamo visto casi in cui, voglio dire, si parlava, magari aveva passato l'ultima serata, l'ultimo momento in allegria, anche perché è un qualcosa che lavora nel tempo, un po' come il burnout, continuiamo a ripetere, infatti.